benvenute benvenuti al torino film festival al tff doc e al tff doc desiderio quest'oggi viaggiamo a rio de janeiro e andiamo a conoscere indianara che è una figura che credo vi appassionerà come appassionato noi il film si chiama indianara che è il nome della protagonista del film il film è un film realizzato a due mani da otto chevalier bomel e da marcello barbos che è qua con noi grazie grazie a tutti che sono qua da 20 anni che io non vengo all'italia così sto ricordando le parole ancora questo film è un risultato di due anni di ripresa con la mia amica oggi che è francese è un film che che mi ha cambiato la mia vita completamente così spero che possa cambiare un po la vostra grazie marcello dopo il film ci incontriamo ne parliamo con marcello e con filo sottile che qua con noi in sala che è una cantastoria tolinese e che porterà anche la sua esperienza grazie grazie a tutti